Carlo De Angelis, pronti per l'esordio in campionato con Porto Viro, una squadra che conosciamo bene perché abbiamo affrontato un paio di volte nel precampionato, ovviamente sarà una cosa diversa perché le partite di precampionato hanno un'intensità differente, inoltre ci sono dei rientri, loro riavranno il loro allenatore Iervolino e noi Mattia e Luca, quali sono le tue sensazioni nella preparazione? Sicuramente siamo pronti, dopo un mese e mezzo in palestra non vediamo l'ora di iniziare con le gare ufficiali, ovviamente rompere il ghiaccio in casa sarà importante, abbiamo fatto un piccolo test settimana scorsa col palazzetto al completo, sarà sicuramente una partita molto molto diversa dalle due amichevoli disputate con loro perché cambieranno i giocatori interpreti in campo, però secondo me sono fiducioso che sarà una partita equilibrata visto anche l'andamento delle amichevoli, sarà una partita molto diversa da quelle, però secondo me potremmo giocarci le nostre carte Ecco, hai avuto modo di vedere per la prima volta, più che altro sentire un palaprata caldo e quasi al completo, te lo immaginavi così? Sì, dai, me lo immaginavo così perché le volte che avevo visto i tifosi di Prata a Bologna, l'unica occasione in cui li avevo visti mi erano sembrati caldi e attaccati alla squadra comunque per aver fatto tutti quei chilometri per vederli quindi sì, speriamo che ci diano una grossa mano durante l'anno perché saranno molto importanti potrebbero essere una mano a noi, potrebbero darci una mano notevole e quindi speriamo sempre di trovare i numerosi al palazzetto il fine settimana Ecco, allora cogliamo l'occasione per invitarli sabato alle otto e mezza Tinet Prata, Delta Porto Viro, Carlo De Angelis ci sarà in prima fila Certo, vi aspettiamo numerosi a sabato